Le hanno provate tutte all'ASL Spezzina per tentare di ridurre le liste di attesa per gli esami diagnostici e le visite ambulatoriali negli ospedali. In passato c'è stato fra i manager anche chi ha pensato di ingaggiare a proprie spese uno specialista del settore con scarsa fortuna. Mai si era arrivati però a decidere di ridurre il tempo medio per ogni visita da 30 a 20 minuti compresi i tempi morti. Una decisione questa che sta scatenando una forte reazione da parte dei sindacati che sostengono come una visita medica non possa certo essere guidata dal cronometro. Si vorrebbe aumentare il numero delle visite giornaliere negli ambulatori senza aumentare dicono o sostituire il personale che ha lasciato il servizio. Sarà interessante anche conoscere cosa deciderà in proposito l'ordine dei medici. Difficilmente la deontologia professionale accetterà una soluzione che andrebbe a penalizzare chi si sottopone alla visita. Tutto questo accade proprio mentre la sanità ligure sta attraversando una crisi fortissima. In Tilte non c'è soltanto la sanità spezzina, da sempre fanalino di coda. Oggi assistiamo al blocco delle cure all'ospedale San Martino dove la radioterapia è bloccata e i pazienti costretti a rivolgersi altrove per quelle cure di cui non possono assolutamente far a meno. Tutto questo accade perché, si scopre, i macchinari per la terapia oncologica sono troppo vecchi. Sanità malata nonostante la creazione di una super asl regionale che dovrebbe sovrintendere al buon funzionamento di tutta la sanità regionale. A Genova ora indagano sia la magistratura contabile che la procura. Vedremo a cosa approderanno queste iniziative, ma intanto ci auguriamo che chi di dovere si muova per garantire a tutti i pazienti le cure che meritano e che la nostra Costituzione prevede per tutti.